Buonasera Presidente, in cronaca l'abbiamo definita una delle migliori prove stagionali. Il Pescara ha meritato ampiamente questo pareggio, anzi il legno centrato da Mancuso sposta l'ago dalla parte del Pescara. Per la verità anche loro hanno avuto diverse occasioni, è stato bravissimo Fiorillo nel primo tempo. Sicuramente l'azione migliore che hanno fatto è stata fatta su un errore nostro, su una palla che abbiamo ridato noi indietro. Però è chiaro che è stata veramente una bella partita, una bella partita tra due squadre che hanno giocato a viso aperto senza fare calcoli. Una delle migliori stagionali? Assolutamente sì, ma credo che in assoluto di queste partite di playoff si è stata sicuramente la più bella fino adesso. Primo tempo ha partito subito molto bene il Pescara, prima mezz'ora. Il Pescara ha concesso solo l'ultimo quarto d'ora del primo tempo al Verona. Nel secondo tempo partita a rischi zero fino al colpo di testa di Tup dal trentottesimo, però in precedenza il Pescara, soprattutto con sottile ripartenza, ha avuto le sue palle gol. Sì, sì, ma come dicevi tu è chiaro che stavamo giocando contro il Verona, non ce lo dimentichiamo. A un certo punto è uscita di Carmine, è entrato un certo Pazzini, quindi parliamo di una squadra costruita all'inizio del campionato per vincerlo. Quindi siamo molto soddisfatti. Presidente, mi dà un giudizio su questo pubblico di Pescara che in massa si è spostato oggi sul Val Bentegodi? Secondo me in quest'anno il pubblico di Pescara è stato il dodicesimo, anche se c'erano pochi spettatori allo stadio, ma quelli che c'erano sono fatti sentire e sono stati sempre dalla parte della squadra. E credo si sia creato veramente un buon feeling con la squadra, con l'allenatore, quindi vanno fatti ringraziamenti a questi ragazzi che durante un giorno settimanale hanno riempito lo spazio a noi dedicato della curva, facendo sentire la loro voce fino al 94esimo. Al di là di come andrà domenica, io le volevo chiedere una cosa, Presidente, prima di parlare della gara di ritorno. Pescara ad inizio stagione, brillantissimo. Pescara che ha avuto una fase di involuzione di un paio di mesi e il Pescara che è tornato ad essere brillante nella parte finale di stagione. Perché? Ma queste sono cose che, più che chiederle a me, si dovrebbe chiedere magari al preparatore, può darsi che sia anche una preparazione fatta in questa maniera, però insomma sono cose tecniche sulle quali non voglio entrare, però l'importante è che il Pescara oggi ci sia. Entriamo in clima, gara di ritorno domenica, ore 21, Stato Adriatico-Cornacchia, credo non serva nessun appello per il pubblico. Che partita si aspetta il Presidente? Una partita con quella di oggi, aperta, non abbiamo fatto nulla, abbiamo ancora il 50% delle possibilità, tutte e due, e quindi dobbiamo giocarla con grande attenzione come abbiamo fatto oggi. Pillona a tre partite dalla conferma, automatica. Vedremo.